I can't stop Ho dovuto portare il computer da un tecnico E ho scoperto che c'era uno degli harddisk che stava per bruciarsi Quindi sabato, ovvero ieri Ho dovuto ristalare più di 50 giga di roba Per fortuna che ho la fibra Quindi ho fatto velocemente E quindi eccoci qui ragazzi Con un nuovo video su H1Z1 Nella modalità Battle Royale Ok, ne ho fatto anche una patch dove hanno cambiato lo spawn E ho aggiunto tutto sto casino che non so a cosa serva E ne ho fatto anche alcune innovazioni Nella parte survival Ma non ho avuto il tempo di leggere i change Ovvio, quindi non ho idea di che cosa abbiano fatto Quindi, innanzitutto, dato che sta iniziendo la partita Vi ricordo come sempre di lasciare un like qua sotto Se volete sostenere la serie Un commentozzo se avete qualsiasi cosa da suggerirmi E vi ricordo anche di passare al mio canale Twitch Che trovate qui sotto in descrizione Perché dato che oggi è domenica Se riesco a sistemare tutto Non è sicuro Dovrei fare una live verso le 3.30-4 Poi vi faccio sapere ovviamente sulla pagina Facebook Che trovate sempre qui sotto in descrizione E adesso iniziamo questa partita Siamo sponati Se non sbaglio vicino a Pleasant Valley Dovremmo essere qui E direi che dato che siamo abbastanza lontani nella città Dobbiamo scendere immediatamente qua sotto Dove ci sono queste specie di Rolot Cerchiamo di prendere le armi che ci sono al suo interno Perché di solito si trova sempre qualcosa di buono E poi ci spostiamo in quella casetta Che c'è la dispersa nel nulla Che se non sbaglio ci dovrebbe essere un veicolo al di fuori Oppure un veicolo rotto, non lo so Comunque prendiamoci subito Oh, uno zaino Il casco Qua c'è una pistola Ok Speriamo non sia sponato nessuno vicino a noi Ok, presi i colpi, carichiamo Qui ci dovrebbero essere esatto altri colpi Ah, e qui c'è il casco da militare Che non ho idea se sia migliore rispetto a questo Ma io, onde evitare problemi, lo prendo Quindi scrivetemi ragazzi qui sotto nei commenti Se sapete se è meglio il casco da motociclista o questo Perché io non lo so Vediamo se in questa Rolot c'è qualcos'altro Oh, c'è l'M16, perfetto Anzi l'M16, l'M15 Non mi ricordo mai il nome di quest'arma Ok Solo che c'è soltanto un caricatore che già ho preso Qui c'è un'altra pistola ma siamo senza colpi E ho notato anche che hanno aggiunto altri server Battle Royale Quindi come potete notare noi siamo P140 in un server Ma siamo soltanto 60, anzi 70 E quindi dovremmo avere una maggiore possibilità di vincere Propriamente riusciremo a fare meno kill Dato che c'è la metà della gente Adesso come ho già detto dall'alto dovremmo andare nella casetta Che c'è qui dispersa nel bosco Nella speranza di trovare o qualche veicolo o qualche arma E poi andiamo verso la cittadella di Besant Valley Nella speranza di incontrare qualcuno Ovviamente ragazzi mancano circa 3-4 minuti Per chi non lo sapesse prima che venga rilasciato il gas tossico Quindi per il momento non possiamo fare assolutamente nulla Oh ragazzi sì, qui c'è un veicolo, c'è una jeep? No, oh no No, è un camioncino inutile Mi sta velludendo Anzi ci sono due veicoli ma penso che entrambi non siano utilizzabili E sul retro cosa c'è? Un camion abbandonato Quindi perfetto Non abbiamo trovato neanche in questo episodio un cavolo di veicolo Comunque entriamo qua dietro dal retro Ho visto già delle armi che ci sono sul davanzale Allora qui è aperta la porta ma spero che non ci sia nessuno Qui c'è un arco da caccia Non c'è nulla di interessante Ho visto dalla finestra l'arco ma non mi serve Qua fuori c'è uno ed è anche armato Ragazzi c'è uno C'è uno, non è possibile Ammazzato Cioè sono disperso nel nulla e questo mi ha ammazzato Poi cavolo non abbiamo neanche le bende perché ancora non le ho aperte Stiamo morendo di sangue Soprattutto ragazzi se sapete come cavolo faccio a far comparire l'ude qui in basso a destra della fame e della sete di queste cose qui mi fareste assolutamente un favore Vediamo se questa aveva dei medikit Magari mi può salvare No, aveva soltanto il pompa Vabbè Accontentiamoci per ora Poi come cavolo ha fatto questo Venite da me Secondo me o esiste il wallhack in questa modalità oppure buh Farò così sfigato da incontrare realmente qualcuno Allora siamo rimasti già in 53 giocatori Qua sotto c'è un camioncino che non serve a nulla perché ovviamente i veicoli non li troverò mai Tanto che già siamo pochi dovrebbe spuntare sinceramente la zona dove cavolo è spavonato il gas Ma ancora non c'è Uh forse spavono a tempo Senza medikit non è che posso andare tanto lontano Per fortuna che quello mi ha preso soltanto con un colpo di pompo forse perché era senza colpi Perché in effetti qua i colpi non ci sono, ce n'è zero Forse ne ha trovato uno anche se la cosa mi sembra abbastanza strana Dunque lì a destra c'è un'altra relotto solo che non voglio andare là sotto Voglio arrivare direttamente nella città di Pleasant Valley perché lì c'è anche abbastanza movimento E spero che non sto facendo tutta questa strada inutilmente perché se poi la zona tossica è proprio al di fuori di Pleasant Valley Devo farmi tutta la strada di nuovo all'indietro quindi speriamo bene Siamo rimasti in circa 45 giocatori Attorno a me non vedo nessun movimento per ora Quindi speriamo Di essere almeno fortunati Il mio record se non sbaglio dovrebbe essere tredicesimo in una partita Qui ci sono delle altre relotto ma forse sono quelle che già ho presa all'inizio Sì sono proprio quelle E quindi la città se non sbaglio dovrebbe essere proprio al di là di questo bosco Quindi la dovremmo spuntare dalla parte alta e quindi dovremmo essere fortunati Allora andiamo di qua Il caschetto a militare mi fa abbastanza antipatia perché non posso colorarlo Spero di poter trovare qualche skin Anzi proprio mentre quanto camminiamo non dobbiamo fare nulla Mi coloro una maglietta con la scritta sono sopravvissuto al virus Ancora per poco però Ok andiamo di qua Ok il gas tossico si dovrebbe vedere nella mappa Perfetto noi siamo qui quindi siamo nella zona sicura Poi tutti si dovranno spostare qui in mezzo ai campi dove non c'è assolutamente nulla Ma almeno non stiamo facendo questa strada inutilmente Siamo nel posto giusto Allora andiamo ancora di qua E dove c'è quella specie di albero qua davanti con tutte le foglie arancioni Dovrebbe esserci la città E a sinistra ho visto un veicolo che è despaunato Spero che non sia un veicolo che è saltato in aria Perché se no sono sfigato Allora andiamo ancora di qua E siamo arrivati Ho ancora No è ancora più lontano la città è là sotto Certo che oggi sono spawnato abbastanza lontano È la prima volta Poi sfortunatamente non ho colpi per il pompa Quindi non posso essere neanche avvantaggiato nelle corte distanze Ho solo 19 colpi dell'M4 Chiamiamolo così E della pistola Ne ho 30 vabbè Allora Siamo arrivati Adesso lo teniamo gli occhi aperti ragazzi Anche voi aiutatemi a vedere se c'è qualcuno Qui dovremmo essere anche in una posizione abbastanza avvantaggiata Dato che ci troviamo in alto Ecco sparano Non so da dove sparano e chi sparano ma Ho sentito anche voi Allora Miriamo ma Non c'è niente Direi di costeggiare qua la città Dalla destra E vediamo se c'è qualcuno qua attorno E la via che vedete davanti a me mi sembra abbastanza pulita Vediamo se di qua invece c'è qualcos'altro Anche perché siamo rimasti in 39 giocatori Non dovrebbe essere così semplice adesso incontrarci Con qualcun altro Però Ma sapendo che sono abbastanza sfigato Di sicuro mi troverò qualcuno in faccia Tipo quello che era nel nulla Non so ragazzi Non so quanto mi convenga entrare in queste case Perché dovrebbe essere già tutte lutate Ma Dato che mi servono i colpi per il pompa Io voglio entrare in questa casa Richiudiamoci la porta E vediamo se riusciamo a trovare qualcosa qui Lì c'è una torcia Qui cosa c'è? Una pistola Senza colpi Tra 3 minuti verrà rilasciato il gas tossico Quindi Vabbè per il momento non ci troviamo nella zona sicura Qui c'è un 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 arco da caccia abbastanza faigo Qui nel bagno non c'è assolutamente nulla Niente Questa è l'unica casa che volevo controllare Uh c'è uno qua fuori Anzi è qua È qua fuori L'ho visto Non ho le visioni penso Chiudiamoci No Mi volevo chiudere qua dentro ma Uh c'è il pompa Perfetto Prendiamolo veloce Carichiamo così siamo in una posizione abbastanza avvantaggiata Chiudiamo un attimo la porta che è qua E vediamo se questo era scelto in qualche posto Oppure poi mi devo andare a ricontrollare il video Perché significa che ho le visioni Però l'avevo vista Era qua davanti ragazzi Vabbè Non perdiamo tempo qui Mi sparano Non so da dove Entra Entra Cavolo Mi sparavano da qui ragazzi Eccolo vedo Dai mi amma Non ci posso credere Mi ha ammazzato In mezzo alle sbarre Ah erano Ah erano in due Allora no ragazzi Non ero io che avevo le visioni Comunque Come vediamo qui dalla schermata Non mi hanno dato neanche un premio Non so se quando giocavo all'inizio Beccavo sempre le cose fortunate Forse perché c'era più possibilità di drop Comunque Hanno aggiunto quelle statistiche Che fanno vedere le player kill Veicoli distrutti Ho ferito uno Infatti sta sanguinando Forse stanno andando a cercare le bende Comunque ragazzi Il video finisce qui Non siamo stati tanti fortunati Speriamo che per i prossimi episodi Riuscirò a combinare qualcosa di più Quindi vi ricordo mai sempre Lascerò un like Un commento E se ancora non l'hai fatto Iscrivetevi Vi ricordo anche di passare Al canale Titch Dalla pagina Facebook Troverete tutto qui sotto in descrizione E adesso ci vediamo Alle 17 Con un nuovo video Sui Sui skybox Quindi Ciao ciao A dopo